Vidata Verona Promobol Sanitars Gussago 03. I parziali 15-25, 19-25, 23-25. Gara giocata a porte chiuse. Nel campo delle Veronesi, coach Taramelli si affida al sestetto composto da Izzo, Marinoni, Ferrari, Salvetti, Ducoli e Piantoni, con Pecalli libero. Sono le padrone di casa a prendersi il primo punto di giornata, ma dopo l'1-1 sbagliano la misura degli attacchi tre volte consecutivamente e consentono così alla Sanitars Gussago di spingere sul 4-1. Poi, sebbene il margine sembri prossimo a vacillare, di lì a qualche scambio sul 5-6, le Tigri assestano prima un'accelerata e a seguire uno strappo al punteggio, tale che neppure il time-out chiamato dalla squadra di casa sotto 5-10 può fare molto. Anzi, la Sanitars Gussago continua a spingere palla a terra e consolida la distanza presa, così il tabellone luminoso indica prima un favorevole 5-12, quindi più in là un 8-14, costruito grazie all'attenzione negli scambi lunghi e a un muro che sporca e rimpalla con efficacia agli attacchi avversari e un 10-16 firmato da uno splendido lungolinea di salvetti. A far male, poi, ci pensa il turno di battuta di Izzo, che mette in difficoltà la ricezione di Vidata e vale anche punti diretti, 10-18. Dall'altra parte della rete si rincorre allora ai cambi, ma poco muta, la Sanitars è lanciatissima e si porta ad un passo dal prendersi il primo set, sospinta anche dalla battuta di Ferrari, che coglie un doppio ace valido per il 12-22, quindi il 15-25 si concretizza ancora dalla linea dei 9 metri, in questo caso con Salvetti. Ed eccoci al secondo set, come era stato per la frazione iniziale, anche la seconda vede il primo punto assegnato alle Veronesi, in questo caso per un attacco out delle Biancorosse, e la Promobol subito pareggia i conti, ma diversamente da ciò che si è visto in precedenza, Vidata tiene la testa e avanza sul 4-2. Izzo e compagne non si scompongono, anzi, serrano i ranghi, risalgono quindi anche grazie a due ace di Salvetti. Mettono quindi la freccia sul 4-5 e nonostante le padrone di casa tentino subito di frenarle sul 5-5, trovano anche un primo tie-break al 5-9. La fiducia presa di fatto è benzina per correre via, così in un Amen le Tigri si issano sul 5-14 e per Verona suona il time-out. Quel che segue tuttavia non si discosta molto da quanto già visto, o meglio, qualche punto in più Vidata riesce a conquistarlo, ma la forbice che le separa alla Sanitars Gusago è così ampia da consentire alla squadra di coach Taramelli che sul 15-23 opta per un doppio cambio, di Giulio per Salvetti e Basalari per Izzo, di godere quindi sempre di una distanza di sicurezza e a spegnere la rincorsa Veneta ci pensa Ducoli con un muro perentorio per il 2-0 e, naturalmente, il risultato del secondo set è 15-25. Ed ecco il terzo set. Se fino a questo punto il sestetto bresciano si era fatto rincorrere, non altrettanto riesce a fare nel terzo periodo che, al contrario, inizialmente costringe Izzo e compagne ad inseguire sul 5-2, a tempo chiamato per coach Taramelli. La fuga della compagine di casa però dura ben poco, perché le Tigri sotto 8-4 sfoderano gli artigli e cambiano decisamente passo, grazie ad un pallonetto proprio di Izzo messo nell'angolo lontano e nel quale si vede tutta l'esperienza della regista. Si portano a meno uno, quindi pareggiano 8-8 con Marinoni e poi vanno sull'8-10. La contesa, tuttavia, non conosce più gli strappi che avevano caratterizzato i primi due periodi, anzi si infila sui binari di un testa a testa davvero incandescente. Dopo l'ingresso di Bertoletti su Salvetti in battuta quota 14-15 e svoltato il 16-16, Vidata mette la testa avanti per un più due, 18-16, che balla solo per qualche scambio. Fino a quando, cioè le biancorosse, lo cancellano e sopravvanzano per 19-20, però le stesse non riescono a prendere ulteriore strada e la sfida torna a farsi punto a punto, 23-22. Il set ball, dopo il 23 pari, piazzato da Ducoli con un lungo linea, lo consegna alla Promobol con un errore avversario. Il set ball, dopo il 23-23, piazzato da Ducoli con un lungo linea, lo consegna alla Promobol un errore avversario. Poi, questa è brava a trasformarlo subito in match ball, grazie alla stampata di Piantoni, che fissa il punteggio sul 23-25 e che vale i tre punti pieni.